buonasera care amiche e cari amici un appuntamento che aspettavate dopo la chiamiamola prima puntata di questo che di questa rubrica che abbiamo chiamato il romanzo della tattica insieme a luca didi abbiamo studiato questo titolo luca didi ex calciatore allenatore professionista ovviamente lo sentiamo come statistico come match analyst e anche autore di due libri ce li vuoi ricordare dove si leggono e ti chiedo subito ho una curiosità su un titolo dei due allora il primo ciao a carlo buonasera a tutti il primo è l'evoluzione di un carattere in verticale ecco perché non fammi capire il titolo allora l'evoluzione un carattere in verticale perché fondamentalmente in questo libro ricalca un po la metodologia di lavoro che ho sempre adattato io nelle varie esperienze da allenatore quindi perché in verticale perché in tutte le mie esercitazioni cerco di arrivare in porta col minore numero di tocchi possibili quindi diceva fabio capello che la percentuale di riuscita di un gol è inversamente proporzionale al diciamo al tempo in cui ci metti ad arrivare in porta esatto è vero giusto quindi ovviamente nel calcio di oggi ho cercato di semplificare la cosa e da arrivare con meno possibili in porta e il milan c'è riuscito contro il torino e milan c'è riuscito perché una squadra carlo molto verticale e soprattutto come si è detto anche la volta scorsa ha cambiato molto il milan a livello di costruzione impostazione e soprattutto a livello di giocatori è una squadra che negli interpreti che ha preso ultimamente sia rainders loftus chic ma lo stesso teo io ho visto che ha cambiato un po' anche a livello di passaggi di verticalizzazione è molto più verticale molto più verticale magari sfruttando più anche la verticalità di pulisic la verticalità che sappiamo di le auli inserimenti di loftus quindi molto più verticale questo milan però luca è facile dirlo anche io se vado a rete chiudo i smash la vole poi bisogna sapere farlo smash la vole è bello fa è bello dirlo ma per questa verticalità per questa verticalizzazione servono esercizi a minanello o serve avere il piede giusto ma sicuramente serve entrambi ma guarda dal milan secondo me anche a livello di allenamenti si concentra molto su le transizioni e le ripartenze è una squadra che si accende è una squadra che è una squadra elettrica ora una squadra che quando fa un'azione offensiva carlo sa quello che fa sa dove andare a verticalizzare e ti faccio un esempio un so se l'hai notato sicuramente sì c'è stato un passaggio nel secondo tempo di rainders per le ao in profondità che quel passaggio la rainders l'ha dato nello spazio alle ao conoscendo ahimè anche se è poco che lì le caratteristiche principali di le ao che sono quelle ovviamente della velocità quindi ha data nello spazio in un posto in una frazione di campo dove solo le ao ci poteva arrivare lì in quel passaggio col difensore quindi sicuramente il milan l'allena molto queste ma ti io sai che a me piace interromperti ma è stato molto apprezzato il passaggio di rainders a calabria dall'altra parte tiro da di cioè proprio sembrava un tiro con con la stecca da biliardo con la palla che va sul tappeto e scivola dietro l'avversario sì sicuramente sì guarda eh il fatto questi si chiamano i passaggi chiave tanti tanti del milan tanti interpreti della partita col torino sono a livello statistico in questa partita eh tra le prime posizioni nei passaggi chiave e quindi sicuramente il nuovo milan gli utilizza molto come ti ho spiegato la volta scorsa e l'interprete maggiore ovviamente abbiamo imparato a conoscere proprio rainders ecco luca eh ha detto pioli a fine partita eh beh ho visto dei netti miglioramenti rispetto alla partita col bologna una partita che tu avevi già lodato dove hai visto questi miglioramenti in che cosa eh pioli quale aspetti avrà apprezzato in maniera particolare eh io guarda questa cosa qua Carlo ehm l'ho l'ho vista subito e ho cercato di capire e l'ho riguardato la partita come te sai e cos'è che è cambiato è cambiato eh Carlo come ti avevo detto la volta scorsa sono cambiate le marcature preventive l'attenzione alla fase di non possesso cioè rispetto a Bologna sì alla fase allora te calcola che quando il Milan attacca c'è anche un discorso di fase di non possesso quindi quando il Milan la palla i difensori del Milan vanno molto nelle marcature preventive questo è l'accorgimento che è stato maggiore rispetto a Bologna spiega sempre marcature preventive le marcature preventive Carlo sono quando il Milan ha possesso palla i difensori del Milan vanno subito a prendere il l'avversario di turno quindi l'attaccante di turno anche se la squadra non è in possesso palla si avvicinano al giocatore in modo che se il Milan perde palla loro sono già lì nelle ripartenze ovviamente mantenendo sempre una distanza che gli possa permettere sia di andare in anticipo che invece andare a coprire la palla ma tu sei allenatore ma cosa ci quanti allenamenti perché bisogna studiarle bene questa situazione perché se un giocatore rimane lì un po' imbesuito e non va a fare la marcatura preventiva diventa un problema esatto esatto ci sono molte esercitazioni il Milan lavora molto su queste marcature preventive transizioni ripartenze non pensiamo che sia un caso ma quello che ho notato dallo scorso anno nelle prime due partite di quest'anno e nelle amichevole il Milan sapendo proprio il peso offensivo che ha e quindi tutta la fase offensiva che sviluppa diversamente quindi le mezzali più più offensive ovviamente maggior attenzione va alle marcature preventive quindi secondo me il Milan fa proprio delle esercitazioni giuste apposite per il discorso delle marcature preventive secondo me ci lavorano da allenatore secondo me ci lavorano due barra due giorni e mezza settimana su queste marcature preventive Luca abbiamo lodato Raeinders, Lofturcic eccetera quando fa una sbavatura o fa un errore martelliamo tomo martelli o martellare non martello mai nessuno lo sai sono un buonista trovo sempre diceva sacchi per legati e se c'è un giocatore da un metro che tira alto dice che è colpa della zolla quindi sono un buonista però andiamo a lodare quando ho giocato una bella partita Tomori a me piace tutto Tomori non so se a te ti ha sollecitato la fantasia di tifoso appassionato statistico a tifoso di calcio intendo appassionato e statistico ma Tomori bello Domenic è sabato sì Tomori bello sono contento che mi hai fatto questa domanda perché è un giocatore che molte volte è stato criticato a livello io ovviamente ho visto subito una buonissima prestazione di Tomori nei 102 minuti giocati ti posso dare alcuni dati di Tomori di questa partita passaggi riusciti di Tomori 93 per cento 95 nel primo tempo 92 nel secondo tempo è normale per lui o un'eccezione un'eccezione molto più pulito in fase di trasmissione palla è stato molto molto più qualitativo rispetto a Bologna anche perché fondamentalmente il Torino lasciava molta libertà a Tomori in impostazione lui è stato molto pulito è stata una delle chiavi del Milan in costruzione di questa partita Tomori con 93 per cento di passaggi riusciti per un difensore è un dato molto molto rilevante poi ti posso dire palle recuperate è stato il primo in tutta la partita quindi dei 22 25 giocatori che sono in campo che ha palle recuperate ben 11 6 nel primo tempo 5 nel secondo tempo col duello con percentuali duelle vinti del 50 per cento 71 nel primo tempo nel primo tempo ha fatto un super primo tempo Tomori quindi è solamente Carlo un dribbling subito questo è il Tomori di Milan Torino quindi è il Tomori è il Tomori un Tomori che ovviamente diventa complicato perché se tu mi dici che viene avanti Teo Hernandez adesso sto imparando quello che tu mi dici mi ricordo e Calabria che effettuano il passaggio chiave se i passaggi chiave cioè passaggi importanti li fa anche Tomori per gli avversari per gli allenatori avversari capire dove andare e mettere una marcatura a uomo diventa straordinariamente complicato esatto ma perché gli fa Tomori perché ha avuto questa libertà di Tomori in impostazione e io devo fare chapeau a Pioli perché perché ha letto benissimo la fase di non possesso del Torino chiamata prima pressione inizio gioco del Milan equivale alla prima pressione del Torino figlia delle partite in difficoltà l'ha detto abbiamo abbiamo studiato le parie dell'anno scorso bravissimo perché ovviamente tutto torna Carlo e ovviamente il mio compito è quello anche di capire quali sono state proprio queste variazioni e qual è stata la cosa fondamentale che sicuramente se fosse un milanista e chi ha visto la partita avrà notato il movimento continuo le accelerazioni con palla di Teo Hernandez dentro il campo questo suo entrare dentro il campo con un Torino che va uomo contro uomo in inizio gioco Milan mi porta dentro il campo anche Bella Nova che era il suo avversario diretto lasciando la fascia di sinistra libera è lì che si apriva Tomori è lì che il Milan costruiva ecco un'altra piccola andiamo una cosa che ho notato poi magari adesso sto entrando mi preoccupo perché di qua questa fase tattica lo dirò a Luca e ci sono state due o tre passaggini non ci abituato così Megnana a Bologna niente di drammatico però degli passaggi non precisi come fa lui l'altro giorno mi è sembrato un Megnana invece molto pulito anche nel passaggio ma guarda io Megnana lo reputo a livello tecnico uno dei migliori portieri che 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 c'è in Serie A ti fa un esempio il giocatore che ha fatto più passaggi chiave in questa partita ti sto dicendo di tutti i giocatori in campo è Tiani Reinders che ha fatto otto passaggi chiave tanto per tanto per cambiare il secondo giocatore per passaggi chiave è proprio Magnana con sette passaggi chiave dalla sua passaggi chiave me ne ricordo uno su Tomori che ha spezzato veramente la difesa del Torino in due con tutti i marcati ha fatto un passaggio alla sua terra nel primo tempo sulla fascia sinistra su Tomori veramente veramente interessante da portiere vero con una freddezza proprio da top da top ragazzi un portiere così è un portiere intanto che ti dà punti e quindi attraverso le sue parate attraverso le sue prestazioni ma è anche un portiere che ti può permettere più fase offensiva di un giocatore perché perché è lui che costruisce da dietro perché lui che fa il passaggio perché lui che ha piede per poter fare quello che fa un centrocampista un difensore Mike Magnan al piede dal centrocampista questo iniziamo a essere nell'ottica anche del Milan quindi sicuramente in una fase di non possesso di inizio gioco come il Milan che il Torino mi va uno contro uno se io ho un portiere come Mike Magnan io so di già che sono uno in più dietro quindi ho la facoltà e la facilità di impostare gioco in maniera limpida e quindi non verticalizzo sempre un portiere tra virgolette normale in una situazione di uno contro uno col Torino come ho visto tante squadre cosa fa calcia sopra calcia sull'attaccante per il colpo di testa Magnan questa cosa qua ragazzi l'ha fatta una volta in 102 minuti ha sempre provato a giocare ha trovato linee di passaggio aperte Rainders Krunic sembra incredibile per noi vecchi del calcio avere un portiere di questo genere non apprezzo Mike Magnan non apprezzo sotto questo punto di vista e e tanti no lo giudicano non portiere perché para no nel calcio di oggi un portiere deve parare e deve essere bravo in questa fase che è la fase di costruzione ragazzi ricordiamoci quello che facevano in Olanda con i ragazzini che gli facevano giocare fuori dall'aria ai portieri e nelle prime fasce d'età non la potevano toccare con le mani ma solo con i piedi non lo sapevo è questa sì stavano sempre fuori dall'aria e i più piccoli non gli facevano toccare la palla con le mani ma solo con i piedi li facevano costruire ci sono tanti video lo trovate anche su internet però quello che ti voglio dire che il calcio di oggi se è talmente avanzato e ovviamente la parte tattica è diventata proprio un cercare di fare sempre cose nuove io devo io devo dare veramente devo fare complimenti al Milan di Pioli perché tutti gli anni lui tira fuori quattro cinque novità tattiche bravo tanti interessanti lui ha detto una cosa in un'intervista io faccio un sondaggio col mio staff sulle cose da migliorare da cambiare durante ogni anno questa cosa qua Carlo non lo fanno tutti allora io non mi meraviglio se la Lazio è così adesso se la Roma è così adesso perché se ti analizzi la Lazio analizzi la Roma analizzi queste squadre i principi di gioco sono sempre gli stessi quindi per uno che fa il mio lavoro quindi l'analista è molto più semplice sa che la Lazio gioca così Sarri difende così come difende su un cross Sarri il Milan ogni anno mi tira fuori determinate situazioni tattiche nuove che comunque le squadre si devono riadattare è stato molto bravo a inserire giocatori nuovi e far sì che questi siano già partecipi di un progetto come quello del Milan quindi sicuramente allora chiudiamo con la cosa più calda anche oggi mi hanno detto no non proviamo il tentativo per Taremi invece dal Portogallo mi dicono che sia molto calda il collega e amico Matteo Matteo Moretto dice parliamo di mercato per un attimo è molto caldo Taremi può essere il giocatore ieri non ha fatto una gran parida con Rio A può essere il giocatore fondamentale per il Milan sia in quantità che qualità quantità numerica e qualità di gioco il alternativa Giroud una tua opinione da statistico oltre che ad appassionato su Taremi andresti a prenderlo di corsa chiaramente non spendendo quello che chiede il Porto no anche perché è in scadenza allora con Taremi voglio iniziare con dei dati 147 partite nel Porto dal 2020 80 gol e 36 assist eh devi sempre dirmi perché tu fai i paragoni è un voto alto immagino 80 gol e 36 assist in 147 partite sono un voto alto ma te ne posso dire anche 22 presenze 9 gol in Champions è un attaccante che non è non ci aspettiamo un attaccante appariscente dal colpo però aspettiamoci un attaccante di un metro e 87 che sa muoversi in aria che è scaltro che gioca di sponda che fa gol in qualsiasi modo in acrobazia di testa di piede di destro di sinistra d'opportunismo attacco alla profondità quindi un attaccante piede piede destro ma un attaccante che può giocare ma ambi destro destro sinistro ho visto fa gol in tutti i modi ne ha fatti uno bellissimo in rovesciata in Champions al Chelsea bellissimo eh quindi ma aspetta nazionale iraniana ha fatto 63 presenze 32 gol lo scorso anno 31 gol in stagione nel porto quindi cerchiamo anche di di dare un valore ai numeri un attaccante se viene al Milan è una manna dal cielo uno perché fa respira al Giroud due perché hai un terminale offensivo di primo ordine nel Milan tanti molti sottovalutato gioca nel porto un attaccante iraniano non vuol dire niente un attaccante che è forte l'attaccante fortissimo a me piace moltissimo sarei molto felice se il Milan prende questo attaccante e attenzione gli do anche un'altra considerazione è un attaccante che è una prima punta ma non pensiamo che sia solamente una prima punta è un giocatore che può giocare anche con Giroud in un attacca due che può fare anche la seconda punta può fare la zona di rifinitura perché è un giocatore anche che rifinisce può giocare da prima da seconda punta l'ho visto giocare anche da esterno quindi un giocatore che comunque ha polivalenza anche nei ruoli cioè non è la classica prima punta che può giocare là invece no si può adattare si può adattare il Milan se prende Giroud fa un un acquisto se prende Taremi si se prende Taremi scusa fa un acquisto molto più importante molto cioè la gente non gli dà peso a Taremi io quando è uscito Taremi è uscito Taremi è uscito Giroud è uscito tanti attaccanti per il Milan io ho sempre detto speriamo che il Milan vada su Taremi quando c'era il discorso dell'estra comunitario se ne poteva prendere uno è arrivato Ciccueze sono accordissimo su Ciccueze quando si è riaperta la casella libera l'extra comunitario con l'off to Cicc comunitario io ho detto speriamo che il Milan porti in Italia un giocatore come Taremi ha è un 92 quindi 31 anni ma un giocatore che ha esperienza giusta per stare nell'ambiente Milan e può fa veramente può fa veramente bene Carlo molto più dello sperato di tanti tifosi milanisti che magari lo trascurano un pochino ma sarebbe la ciliegina sulla torta del mercato del Milan Taremi io ti ringrazio Luca ci hai spiegato bellissime le statistiche su Mignan sullo stesso Tomori e chissà che la prossima intervista in questo romanzo della tattica abbia come protagonista proprio il giocatore iraniano ti ringrazio grazie a voi vi invito sempre a iscrivermi al mio canale YouTube attivare la campanella e mi raccomando mettete i vostri like grazie Luca Didi e ancora un saluto grazie ciao Carlo ciao a tutti